Musica Come al solito cercherò di non essere così distruttiva come sono io normalmente che vengo qua e vi racconto delle cose cattivissime ma vi farò vedere un altro gruppo nuovamente di molecole in parte anche contenute negli alimenti in parte in tanti altri prodotti che noi usiamo in genere perché sta venendo fuori che purtroppo appunto queste cose che noi chiamiamo perturbatori e endorini sono molto diffusi e noi spesso e volentieri non ce ne abbiamo conto infatti abbiamo deciso in parte di fare questa lezione perché il paradosso che noi ci ritroviamo spesso in ambulatorio è di dire alle persone e in particolare ai genitori dei ragazzini, dei bambini o come vedete ai padroni anche degli animali perché abbiamo già detto tante volte che purtroppo ormai facciamo dei grossi pasticci anche con i nostri amati animali spieghiamo a questi genitori appunto che non dovrebbero mangiare o diventare a contatto rimanere a contatto per lunghi periodi a molecole chimiche sintetiche addizionate e loro ti rispondono io assolutamente non uso questo, non tocco quello, non faccio quell'altro quando in realtà non ci rendiamo conto che queste molecole sono spesso e volentieri dappertutto non ce lo dicono e quindi non ci poniamo attenzione certo noi non tocchiamo i chimici nel senso che non siamo dei lavoratori chimici ma purtroppo nella nostra vita quotidiana veniamo a contatto con un sacco di queste molecole preciso che io stasera parlo solo dei perturbatori endocrini quindi delle molecole di questo tipo aromatiche aromatiche in chimica per noi vuol dire che hanno questi anelli che si chiamano benzenici che hanno una caratteristica molto particolare chimica che servono come ormoni nel nostro organismo la maggior parte di queste molecole vengono utilizzate come segnali che vanno direttamente sul nucleo e quindi sul DNA delle cellule e funzionano come ormoni e quindi si chiamano endocrini sicuramente ci sono dei perturbatori di tutt'altro genere antiossidanti, cancerogene eccetera di cui oggi non parlo partiamo un po' dall'inizio per farvi capire perché noi poi alla fine vi faremo vedere quali sono le malattie e quindi dove vanno ad agire queste molecole non so se sapete, spero di sì, che esiste il cromosoma X e Y e noi uomini e donne siamo diversi proprio per la distribuzione di questi cromosomi le donne hanno due cromosomi X gli uomini hanno un cromosoma X e un cromosoma Y una volta fino a 50 anni fa, non tanto tempo fa fino a circa 50 anni fa ne dicevamo questi gestiscono la differenzazione sessuale peccato che purtroppo sta venendo fuori che non solo, sicuramente la differenzazione sessuale è rimasta ma proprio gli estrogeni, il testosterone, questi ormoni sessuali femminili e maschili vanno a gestire la differenzazione anche a livello del cervello che è la cosa che sinceramente ci interessa abbastanza ed in particolare, mi spiace per gli uomini presenti ma la differenzazione avviene sin dalla gravidanza non avviene dopo, tutti dicono ah ma sì, ma i caratteri secondari, i caratteri sessuali secondari si sviluppano nell'adolescenza d'accordo, poi gli evidenti in realtà la maturazione già originale avviene durante la gravidanza e nelle prime otto settimane il nostro organismo ed in particolare il nostro cervello è essenzialmente femminile quindi tutti gli embrioni sono femminili, partono come femminili questo vuol dire che in realtà l'embrione è un ermafrodito cioè lui è in bilancio noi partiamo da questa situazione in cui appunto abbiamo tutte le possibilità ognuno di noi ha tutte le possibilità femminili e tutte le possibilità maschili successivamente con un aumento funzionale degli estrogeni che sono quelli femminili possiamo diventare delle donne con un aumento funzionale invece del testosterone e degli androgeni possiamo diventare degli uomini purtroppo questo sistema è molto più fragile e quindi anche gli spermatozoi, dopo ve la faccio vedere meglio ma era per farvi vedere che in realtà gli spermatozoi sono molto più sensibili questo sistema è molto più fragile invece noi nella nostra pratica clinica tanto per cominciare nella ricerca di base quando noi facciamo ricerca spesso e ventieri noi usiamo la cavia che sia l'animale originariamente, che sia la persona che si offre come volontario o che sia la maggior parte dei trial noi spesso volentieri usiamo le persone come cater maschile e non facciamo nessuna differenza fra gli uomini e le donne e in clinica tanto peggio noi in clinica non teniamo mai conto delle differenze ormonali in qualunque tipo di malattia e non solo a livello delle malattie sessuali ovviamente ma per quello che riguarda tutte le malattie la donna è quella rosa quindi tutte queste malattie qua sono molto più diffuse che sono le malattie autoimmuni e le malattie mentali scusate, le malattie autoimmuni e allergiche a carico della donna le malattie mentali a carico dell'uomo proprio perché questa genetica ha un senso quindi in realtà noi dovremmo porre noi come classe medica dovremmo porre molta più attenzione sia a questo, si chiama genere, quindi al senso quindi a queste diverse distribuzioni degli ormoni sia alle fasi della vita quindi noi dobbiamo partire dal presupposto che è vero che l'embrione è permafrudito ma poi successivamente le nostre molecole dovrebbero determinare e differenziare specificatamente l'uomo dalla donna mentre noi con tutte queste molecole che vi faccio vedere adesso facciamo un bel pasticcio e quindi questi sistemi che sono molto raffinati vengono modificati abbastanza facilmente ma anche perché noi riusciamo a fare dei bel pasticci cosa intendiamo per queste molecole? sono delle molecole, abbiamo detto, che mimano e quindi vanno a legarsi sui recettori endocrini che vanno sia a determinare delle alterazioni a livello stesso organismo a cui si è legato sia alla progenie proprio perché vanno sugli ormoni sessuali di cui noi non sappiamo esattamente quale sia la funzione possono essere agonisti il che vuol dire in medicina che fanno funzionare di più questa attività o antagonisti, vuol dire che bloccano le attività degli ormoni con meccanismi differenti con tutta una serie di meccanismi che quindi sono veramente difficili da gestire tenete conto che questa definizione è del 1996 quindi non è che l'abbiamo scoperto ieri ormai lo sappiamo praticamente da 20 anni e nessuno ci racconta niente e appunto noi continuiamo a non fare attenzione a queste molecole vi faccio vedere due formule chimiche non per fare una lezione di chimica ma guardate solo graficamente gli anelli quindi appunto steroidei benzenici che vi ho fatto vedere prima questi sono, l'estrono, l'estradiolo l'estrono sono gli ormoni sessuali femminili naturali questi sono quelli che noi produciamo queste sono le molecole molto simili ad esempio della soia che si chiamano fitoestrogeni perché vengono dalle piante questi sono quelli che sono stati prodotti dalle case farmaceutiche quindi sono sintetiche questi sono purtroppo quelle peggiori che sono invece quelle sintetiche utilizzate dalle industrie sia alimentari che dei detersivi che dei pesticidi che vi farò vedere e che spesso e volentieri sono nascosti quindi sono quelle di cui in realtà noi non ci rendiamo conto e sono quelle che sono le più frequenti solo per spiegarvi perché è così facile perché sono così diffuse voi fate finta che di tutte queste molecole di cui io sto parlando sono questo l'ormone ma essendo liposolubili cioè avendo questa struttura appunto ciclica loro non hanno bisogno di nessun trasportatore sono come dei gas loro passano tranquillamente attraverso tutte le membrane quindi facilmente passano dal vaso sanguigno quindi è il nostro sangue passano il capillare entrano nel liquido intercellulare attraversano la membrana della cellula attraversano la membrana del nucleo senza assolutamente nessun controllo quindi anche una concentrazione che sia un po' di più di quella che è quella naturale non ha assolutamente nessun controllo arriva direttamente sul DNA e appunto attiva o disattiva determinate funzioni questi recettori che si chiamano nucleari proprio perché arrivano direttamente sul DNA sono essenzialmente quelli estrogenici quelli androgenici quindi ormoni sessuali femminili ormoni sessuali maschili il cortisolo di cui noi parliamo tanto del cortisone sapete il farmaco del cortisone benissimo il cortisolo è la molecola nostra endogena che però ha gli stessi effetti del cortisone allora se noi sappiamo quali sono gli effetti collaterali del cortisone sappiamo benissimo possiamo comprendere quali sono gli effetti dei leteri dell'eccesso di tutti questi steroidi la tiroxina e la vitamina D perché queste molecole vanno a mimare esattamente la posizione che hanno i nostri ormoni all'interno del recettore allora questa molecola grigia la parte grigia è il recettore è questo pallino qua arancione che è quello che lega direttamente sul DNA ma vedete che la struttura tridimensionale dell'estrogeno dell'estradiolo dell'estrogeno comunque dei nostri ormoni umani mima perfettamente qua gliene manca un pezzettino è vero ma dal punto di vista funzionale in realtà il recettore viene attivato ugualmente quello che sono importante è la distanza fra questi due H vedete questi due pallini rossi queste due strutture e quindi questa distanza fra questo H e questo H è esattamente uguale a questo H e questo H e questo H e questo H hanno la stessa funzione in realtà che è quella della tirosina quindi lui il recettore purtroppo non è il selettivo non è così specifico ma ha un'altra affinità vuol dire che si attacca a qualunque molecola che assomiglia e ha questi due OH e questi due anelli aromatici quindi in realtà il cortisone l'estrogeno la soga la gelisteina è la molecola della soia la vitamina A la vitamina D sono tutte molecole e poi passiamo a quelle industriali che mimono benissimo questa è di nuovo la nuvola elettronica guardate questo disegno la parte blu è l'estradiolo quindi il nostro vero estrogeno la parte verde la molecola attaccata sopra quella verde è appunto la soia che differenza fa? praticamente nessuna quindi purtroppo questo va normalmente ad attivare ma dall'altro punto di vista è che noi non sappiamo esattamente che cosa fanno su questi recettori allora questa è la nostra cellula questo è il recettore molto più stilizzato e questo è l'ormone mettiamo che sia l'estrogeno e questa quindi è la risposta normale e fisiologica se io avessi il mio ormone o comunque il dosaggio dei miei ormoni prodotti dalle mie ovaie se io invece ho questa molecola che noi chiamiamo perturbatore, interferente che si attacca possiamo avere una risposta eccessiva una risposta ridotta ridotta, scarsa oppure possiamo avere appunto lo spegnimento di questo recettore da che cosa dipende? non lo sappiamo dipende dalla condizione recettoriale dipende dall'ubicazione dei recettori dipende dalla conformazione tridimensionali in quel momento lì in ciascuna persona quindi noi a priori non sappiamo neanche quale sia l'effetto vero ad esempio il tamoxifene sapete avete mai sentito cos'è il tamoxifene questo farmaco che noi usiamo per andare a bloccare i recettori perché noi sappiamo che in quella posizione lì va a bloccare il recettore dell'estrogeno a livello della ghiandola mammaria peccato che la stessa identica molecola lo stesso identico farmaco su un recettore vedete che è leggermente diverso qua è stilizzato però vedete che è diverso in un tessuto endocrino diverso che è l'utero la va ad attivare quindi il rischio è lo stesso tamoxifene che noi usiamo come terapia noi siamo sicuri che va a inibire il cancro della mammella mentre va parallelamente nella stessa identica persona che lo prende va ad aumentare il rischio del tumore dell'utero quindi è questo il grosso problema questo vale ovviamente per tutti gli altri tessuti quindi il cervello quindi il cuore quindi i muscoli dove vi farò vedere successivamente appunto dove sono i recettori degli estroti in più noi come perturbatori intendiamo delle molecole con cui noi abbiamo un contatto cronico e in eccesso allora se già non sappiamo come funziona di suo se già non sappiamo come funziona nelle diverse età sia nella donna sia nell'uomo noi non sappiamo che cosa in realtà andiamo a provocare abbiamo detto i recettori principalmente sono i recettori estrogenici e quindi questi sarebbero gli effetti che noi ci aspettiamo di questi estrogeni sulla maturazione della donna quindi c'è tutta e vedete già che c'è tutta una parte che è quella ginecologica ma c'è il cardiovascolare il sistema immunitario i tessuti muscolari il bilancio metabolico e appunto tutto quello che è sul cervello proprio perché gli estrogeni non vanno solo su quello cosa succede se io ho un eccesso ricordatevi sempre l'eccesso perché in realtà poi questi sono parte delle molecole alimentari che noi usiamo nella menopausa chi ha seguito la nostra lezione l'altra volta sulla menopausa si ritroverà con alcuni di questi alimenti come ad esempio la sua purtroppo è l'eccesso la signora prima mi diceva se io faccio il decotto con il trifoglio rosso che è l'altro va benissimo ma io non posso sapere se quello è un eccesso o meno se quello è un dosaggio che nella menopausa può essere adeguato sicuramente la peggior la patologia avviene però nei bambini negli adolescenti nelle persone in età fertile quindi se io in menopausa mi aspetto che vada tutto abbastanza bene perché io so a priori che i miei estrogeni intanto sono bassi non faccio un gran pasticcio il problema è se io doso e aumento la quantità estrogenica a livello delle altre fasi della vita nel momento in cui io non mi aspetto di avere un eccesso di estrogeni tanto peggio vedremo cosa succede negli uomini gli uomini abbiamo detto sì se sono ermafonditi per i primi otto settimane poi loro però dovrebbero avere il testosterone giustamente invece se hanno un eccesso di estrogeni sono ancora più sfortunati perché hanno un bel pasticcio hanno un eccesso di una molecola che non è la loro a livello cerebrale noi continuiamo a stressare questa cosa perché in realtà vedete questo non per farvele imparare ma sono tutte strutture sono tante le strutture su cui gli estrogeni vanno ad agire sul cervello e già solo appunto alcune di queste aree sono quelle che sono sembrano adesso sappiamo che sono quelle più legate allo sviluppo dei disturbi d'ansia dell'autismo delle psicosi dell'identificazione del nostro sesso e quindi tutte queste attività vanno alterate come ho già ho detto sicuramente l'estrogeno con il tumore in eccesso viene visto dal nostro sistema metabolico e endocrino come un fattore di crescita quindi tranquillamente l'estrogeno qua sicuramente poi ci sono altri dettagli non sto dicendo che se tu hai solo quello e ti mangi il trifoglio rosso ti viene il tumore no ci vuole tutta una serie di altri tasselli e di altri dettagli ma sicuramente l'estrogeno è una delle vie preferenziali per andare a stimolare la proliferazione e l'angiogenesi delle cellule eventualmente alterate a livello degli uomini gli androgeni e quindi il problema principale è quello a livello della prostata perché mentre gli androgeni in particolare il testostenone andrebbe a determinare l'attività della prostata se io ho un eccesso e appunto un eccesso di queste molecole che mimono esattamente questo loro vanno ad attivare la proliferazione come il PSA che tutti conoscete e quindi aumenta il rischio sempre l'eccesso aumenta il rischio non è che se tu hai un eccesso direttamente di dire il tumore però aumenta il rischio il cortisolo come vi dicevo prima che fa 10.000 miliardi di cose in realtà un eccesso di steroidi appunto sintetici ma a livello sistematico a livello cronico può dare tutte queste malattie il cortisolo è veramente quello che anche senza leggerlo c'è tutto in realtà tutte le malattie possono essere peggiorate da un eccesso di cortisolo sicuramente gli ormoni tiroidei e di nuovo qua come vi dicevo sia l'ipertiroidismo che l'ipotiroidismo perché io non te lo so dire se lui in realtà riesce ad andare a mimare attivando in un modo eccessivo la tiroide o bloccando l'attività della tiroide spesso e volentieri sicuramente il più frequente è l'ipotiroidismo e noi vediamo sempre di più l'ipotiroidismo infatti nei giovani perché comunque queste molecole che vengono assunte diciamo dallo spezzamento in poi in realtà in 20 anni noi ormai i ragazzini 17-20 anni riusciamo a vedere già delle patologie croniche tendenti all'ipotiroidismo sicuramente la vitamina D di cui noi abbiamo detto tutto il bene possibile certo perché se io la prendo dalle uova dal formaggio dalla carne quindi ha dei dosaggi funzionalmente fisiologici loro vanno a ossificare le ossa a proteggere dall'infezione e tutta una parte appunto sul sistema immunitario e sui dolori ma in eccesso e vi farò vedere dove viene messa in eccesso lei va di nuovo sulla proliferazione cellulare sulla maturazione sui fattori immunitari e quindi potrebbe in eccesso cronicamente determinare delle alterazioni tumorali di vari tessuti che non sono ormonodipendenti non sono indipendenti dagli ormoni sessuali quindi quello che ci preoccupa di tutte queste molecole proprio che ce ne sono tante noi non lo sappiamo dove sono queste molecole purtroppo un po' dappertutto questa casetta mi piaceva tanto anche se non riuscite a leggere ma non importa queste sette classi sono le sette classi principali che adesso vi farò vedere e guardate solo la distribuzione dai tessuti ai televisori quindi tutta la parte tecnologica in plastica a tutto quello che noi mangiamo e anche solo ai contenitori dei nostri alimenti a tutta una serie di nuovo tessuti e apparecchiature che noi usiamo in camera da letto al bagno quindi purtroppo la distribuzione di queste molecole è molto ampia e questo solo per farvi vedere l'entità noi abbiamo ancora oggi nel 2015 comunque una distribuzione abbastanza alta di tutte queste molecole che determina tutte queste malattie e noi abbiamo una spesa enorme perché mi sembra che questi bilioni se non veramente una spesa enorme su una serie di malattie che sono determinate da queste molecole e vediamo le molecole vere e proprie vi abbiamo fatto vedere l'altra volta appunto i fitoestrogeni partiamo da quelle alimentari che sono quelle più interessanti sono quelle su cui peraltro noi possiamo fare un minimo di attenzione su cui possiamo fare porre attenzione sulla qualità e sulla quantità e leggere le etichette tutti questi alimenti ed in particolare questo elenco sono tutti alimenti che contengono dei fitoestrogeni allora se io sono in menopausa e so che voglio prendere un'aumentata dose di queste molecole sono perfettamente d'accordo il problema è quando sono appunto nascosti ad alte dosi o a dosi che noi non conosciamo in particolare la soia la soia ci viene raccontata come appunto questa bellissima è un legume per cui come tutti i legumi ha un'alta quantità di proteine proteine vegetali ma poi ha legato perché è un prodotto comunque oleoso da cui appunto facciamo effettivamente l'olio quindi in tutti i derivati della soia rimangono gli isoflagoni e come vi ho detto la genisteina e i dertazinina si chiamano quelli principali e la lecitina di soia che sono queste molecole appunto come vi ho fatto vedere questo è il nostro estrogeno e questo non cambia assolutamente niente è uguale identico peccato che la quantità abbastanza piccola che circa 40 grammi 40 grammi di proteine della soia sono abbastanza poco avete un'idea è mezzetto in 40 grammi di una qualunque prodotto che contiene la soia contiene 90 milligrammi di isoflavoni cioè di queste molecole peccato che 90 milligrammi è più alto del dosaggio del farmaco che noi usiamo per la menopausa nella concentrazione forte quindi il forte è 80 milligrammi se noi mangiamo 40 grammi di proteine ne abbiamo già di più e spesso e volentieri non lo sappiamo e spesso e volentieri noi diamo queste proteine ai nostri figli ai bambini agli adolescenti che effettivamente se lei se noi ponessimo attenzione non gli daremo sicuramente una compressa di provenzile che è quello a tanto dosaggio per le donne in menopausa questo ve l'ho già fatto vedere prima appunto la molecola questa è la distribuzione purtroppo della soia questa è più carina ma non si riesce a leggere vi faccio vedere questa che è più brutta come immagine ma riuscite a capire di cosa stiamo parlando allora di nuovo se io parlo di prodotti in cui io so che ci sono che c'è la soia allora io nuovamente lo so ma il problema è che c'è in tutte le farine in tutti appunto i concentrati di proteine e quindi c'è in tutti i prodotti per i bambini in tutti i prodotti per i cereali in tutti i prodotti quelli che si chiamano con i fortified quelli che sono rafforzati con altre proteine sicuramente ve lo faccio vedere nuovamente dopo nei mangimi degli animali che poi noi ci mangiamo c'è come proteine c'è come olio ma purtroppo gli isoflavoni anzi ancora di più che negli estratti di proteine sono concentrati in tutti gli oli e allora sono gli oli vegetali la lecitina di soia che è questo conservante che c'è dappertutto e poi gli oli cosmetici quindi li vedremo anche nuovamente in tutti i cosmetici allora se io la mangio o la assumo o ci vengo a contatto con delle basse dosi io posso vedere quali sono le proprietà benefiche della soia sicuramente migliora le unghie sicuramente l'ostoporosi l'elasticità muscolare tutto quello che vi ho fatto vedere degli estrogeni ma se io in realtà ho delle dosi appunto eccessive croniche nascoste vanno ad alterare ed in particolare di nuovo negli uomini sicuramente vanno ad alterare la fertilità perché questi si riempiono poverini di estrogeni quindi la soia dal vero è in realtà ne ha solo 30% di proteine vegetali ti vengono di nuovo come facilmente digeribili così tutti gli sportivi come supplementà appunto si mangiano le proteine di soia tenendo conto che oltretutto il 90% è OGM ha questo eccesso di fitoestrogeni per tutte le età e per tutti i sessi vi faccio degli esempi così almeno vi deprimete poi dopo mi picchiate se io mangio il tofu so che c'è la soia ma se io mangio il prosciutto cotto perché ci deve essere la soia purtroppo nei prodotti di bassa qualità in cui comunque già l'allevamento in questo caso ma vi faccio vedere degli altri esempi è la stessa cosa che hanno un gusto minore che partono dai prodotti comunque di bassa qualità quindi hanno dei problemi nutrizionali cioè di quantità proprio di nutrienti di vitamine di proteine queste proteine comunque essendo oleose le usano come emulsionanti quindi li aggiungono e la legge glielo permette perché questi prosciutti sono dei prosciutti tranquillamente in vendita dappertutto e teniamo conto che c'è scritto ci deve essere scritto sull'etichetta quindi basta porci attenzione leggere le etichette e cercare di almeno non comprare questi prodotti la stessa cosa con la maionese almeno qua c'è scritto senza uovo al gusto di maionese spesso voi dire ve lo fate attenzione perché c'è proprio scritto maionese la maionese per i vegani i vegetariani è la cosa peggiore perché visto che non ci mettono l'uovo ho capito la maionese con l'olio non si può fare da solo l'olio lo sbatti e non viene la maionese ci devi mettere dentro qualcos'altro cosa? le proteine della soia la stessa cosa nei prodotti pronti ovviamente e l'abbiamo già ripetuto tante volte tutto ciò che è pronto ci hanno già aggiunto delle schifezze che non ci dovrebbero essere allora questo è un pronto da mettere in padella che dovrebbe essere un crocco pollo già dal nome mi fa ridere ma comunque dovrebbe essere un prodotto di carne e perché ci sono le proteine della soia concentrate e poi ovviamente c'è la lecitina del soio la stessa cosa qua la stessa cosa nelle merendine ecco nelle merendine c'è proprio la farina di soia e l'olio di soia ecco qua i mangini che vi dicevo prima questi non sono mangini qualunque sono i mangini dell'Emilia Romagna con il cui latte viene prodotto il grana padano tipico quindi non il contadino l'allevatore qualunque che c'è per lì in giro che non viene controllato questo fa parte di un doc grana padano tipico in cui gli mangini per legge sono accettati vedete tutte queste farine qua c'è la farina di soia e sono OGM quindi c'è la soia ed è pure OGM i prodotti dietetici in tantissimi prodotti dietetici visto che appunto ti dicono ah la carne no le proteine della carne rossa no e questo no e questo no che cosa c'è? la soia se no il dietetico cosa ti mettono? lo zucchero? no ti devono mettere le proteine e quindi della soia sicuramente tutti questi snack che ormai ci sono dappertutto proprio perché la soia purtroppo fa chic e quindi tutti questi snack di prodotti tostati hanno sempre più spesso le noccioline di soia sicuramente tanti biscotti e tanti prodotti alimentari hanno la lecitina di soia quando oltretutto mi spiace continuare a ribadire questa cosa ci dicono sono biologici e biologici però se tu devi guardare le statistiche in realtà il 93% della produzione mondiale della soia è OGM se noi guardiamo guardate questo disegnino che è quello che rappresenta la soia se voi guardate i diversi stati c'è la soia OGM dappertutto e allora tu dici sì e quella che è biologica dove se la fanno sotto il letto non lo so io ho dei grossi dubbi sempre di più su questa produzione biologica veniamo ai legumi i legumi in parte sono dei prodotti come la soia sapete che la soia è un legume quindi come tutto il resto anche i piselli i fagioli le lenticche i ceci hanno sicuramente dei molecole che sono un po' più androgeniche in realtà loro invece di avere quelli che mimano gli estrogeni mimano di più gli androgeni vedete che il sitosterone è quello che assomiglia di più al testosterone quindi se io nuovamente mi mangio le merendine e la pasta addizionata questa è bellissima succo di arancia concentrata in cui il succo di arancia è 1,8 allora chiamassi concentrato non so bene di quale concentrature si può parlare secondo per ovviamente non essere acqua e zucchero hanno dovuto mettergli qualcosa per dargli la consistenza cosa gli hanno messo le proteine di pisello e tu mi dici perché ci sono le proteine di pisello dentro il succo di arancia non lo so semioleosi la stessa cosa come in realtà poi la soia è un semioleoso una leguminosa diversa ma è un semioleoso in particolare le nocciole e i pistacchi i pistacchi essenzialmente sono ricchi di fitoestrogeni quindi tutta questa eccesso ricordatevi sempre l'eccesso di tutti questi snack che i nostri ragazzini mangiano agli aperi cena agli aperitivi alle festicciole dei bambini e dici sì ma sono accioline e ho capito ma se ne mangiano in continuazione i bambini vi faccio vedere dopo cosa cosa succede ai bambini maschi questi latti allora il latte di soia il latte di noci il latte di malandolo il latte di nocciole il latte di pistacchio sono gli stessi concentrati ovviamente di tutti questi semioleososi di cui vi ho detto prima le crucifere che mettiamo dappertutto anche questo ricordatevi che le rape un po' meno tutto il resto ma ad esempio anche le proteine delle rape possono essere concentrate e trasformate in farine utilizzate come vi ho fatto vedere per gli altri legumi sicuramente questi sono forse i meno o peggio che sono quelli che noi consigliamo alle donne in meno pausa tenendo conto che comunque loro hanno il 18% di genisteine di androsini quindi nuovamente se tu sei sempre in eccesso non non va bene solo perché è un eccesso come tu hai il deficit dell'estrogeno e un eccesso patologico ugualmente la frutta e la verdura che ci aveva seguito che abbiamo già fatto vedere mi piaceva questa streghetta che ti offre questa frutta e verdura che però quella specialmente industriale che si trova nei supermercati è piena di estrogeni di vitamine e di vitamine D poi anche gli antibiotici che sono aggiunti nella coltivazione ma se allora io li aggiungo nella coltivazione diffuse in tutti questi campi uno non c'è più lo spazio per il biologio due queste molecole che appunto sono lipidiche steroidene sono molto facilmente solubili quindi vanno nelle acque vanno nei terreni vanno nelle falte acquifere e vanno dappertutto quindi tu poi te le ritrovi sembra che addirittura sino al 36% perché loro ti dicono il 64% è senza residui bene sono molto contenta ma il 18 ne ha un residuo il 17 ne ha anche di più di un residuo l'1 è oltre i limiti di legge sì ma i nostri recettori tu glielo devi andare a spiegare che sono oltre i limiti di legge perché loro del limite di legge non gliene può fregare di meno allora viene fuori che in realtà tu hai 18 più 18 è il 36% di residui mangiati tre volte al giorno per 25 anni quindi bisognerebbe vedere un po' ci sono queste tabelle in cui probabilmente in base io non ho trovato dei valori numerici ma ci sono sicuramente delle coltivazioni che sono principalmente addizionate di queste molecole e delle altre coltivazioni che probabilmente vanno un po' meglio per cui probabilmente non hanno bisogno di tutte queste stimolazioni estrogeniche quindi sono un po' meno ricche veniamo ai pesticidi io qua non voglio fare una lezione di nuovo contro i pesticidi dal punto di vista chimico e quant'altro ma purtroppo le molecole sono di nuovo le stesse e vedete che ci hanno sempre raccontato con l'OGM noi riduciamo la quantità di pesticidi bene sono stati introdotti gli OGM nel 1995 e dal 2000 sono veramente diffusi non mi sembra che poi in realtà questi dosaggi industriali infatti ancora oggi gli insetticidi e i pesticidi disinfettanti e i fuggicidi sono praticamente il 70% della distribuzione quando il 47 ma poi ci sono tutti questi sono di nuovo molecole aromatiche dove vengono usati i pesticidi nella maggior parte dei paesi che producono comunque prodotti agricoli e la distribuzione dei pesticidi essenzialmente come gas quindi questa innaffiatura o come volete questa distribuzione appunto per via aerea è ovvio che giustifica nuovamente quello che vi ho detto prima se tu li spruzzi così vanno in tutte le aree in tutte le acque in tutte le falde se io parto da questa intossicazione non è che purtroppo questa frutta la verdura sia effettivamente così sana anche perché appunto purtroppo queste molecole così piccole perché queste sono delle molecole molto piccole vanno nelle acque a distanza di chilometri loro si spandono e si appiccicano dappertutto questo è lo stesso motivo per cui stanno morendo le api sapete che c'è questo grosso problema della riproduzione e siamo sempre là della riproduzione sessuale delle api perché perché loro si mangiano succhiano il letale da queste piante che sono piene di queste molecole aromatiche e quindi va ad alterare il loro sistema enorme guarda a casa questa è l'Italia queste sono le acque superficiali quindi questo è l'inquinamento da parte di queste molecole delle acque superficiali e noi siamo veramente un po' su migliore questo è le acque profonde le acque sotternali quindi le falde questo se vi piace di più è ancora più evidente e poi come vi dicevo prima se questa è la distribuzione italiana poi però su questa cartina mi dice che noi siamo uno dei paesi che produciamo la maggior parte dei prodotti organici quindi biologici non OGM senza un'aggiunta di fertilizzanti se tu hai se tu hai intossicazioni delle acque sotterranee e poi credere a questa cartina non lo so il glifosfato ve l'ho lasciato perché non so se avete sentito proprio una discussione che è in atto in questi giorni perché l'Unione Europea sta cambiando i livelli di quantità ufficiale che si possono usare di questo insetticida ovviamente americano che viene sempre spruzzato vedete che la macchinetta in per il sistema è sempre lo stesso che si sa esattamente essere legato ad esempio all'autismo per cui vedete la riga rossa e la quantità di questo disarmante utilizzato in agricoltura le barrette gialle sono l'incidenza di autismo nei bambini e vedete che mi sembra che non sia tanto difficile da capire che è abbastanza correlato la stessa cosa con i cereali i cereali sono quelli per cui vengono utilizzate principalmente queste molecole che sono degli organi fosforici allora gli organi fosforici noi ora sappiamo che sono principalmente legati anche a basso livello quindi non solo dal punto di vista di queste malattie professionali acute di questi agricoltori che lo usano ma a basse dose cronicamente diventano delle malattie della popolazione quindi sia dal punto di vista neurologico le neuropatie il Parkinson l'Alzheimer sono quelli principalmente legati come malattia professionale ma sicuramente l'infertilità è stata studiata anche poi nei topi e vedete che aumenta sempre di più certo che più vai avanti più aumenta l'età delle copie più o meno ma proprio per questo motivo ancora nei domestici a livello nostro casa dobbiamo fare attenzione perché in tutti gli spray ci sono questi insetticidi e quindi poi diciamo i nostri bambini vanno a scuola e vengono etichettati come questo deficit ADHD il deficit di attenzione l'ipereccitabilità i bambini che non sono capaci di stare seduti su una sedia non riescono ad apprendere e gli insegnanti non riescono a tenerli in classe sì ma non è colpa né del bambino né dell'insegnante e che il suo cervello è iperstimolato da tutta questa serie ed in particolare il bambino maschio perché infatti l'incidenza di questa malattia è aumentata nel bambino maschio proprio per questo motivo ancora nelle carni e l'abbiamo già detto che purtroppo tutti gli allevamenti industriali sono appunto come la frutta e la verdura addizionata e ci sono ormai evidenze da tutte le parti noi sappiamo benissimo che una volta i polli venivano allevati in tre mesi diventavano grandi così adesso in tre mesi diventano grandi così questa mucca abbiate pazienza è reale non me la sono inventata non l'ho disegnata di notte è proprio un problema dovuto al testosterone progesterone e stradio ovviamente dagli allevamenti industriali arrivano i derivati per cui il latte sicuramente ci sono almeno quattro molecole semi naturali perché per carità il primo è sicuramente naturale ma in eccesso nel latte la stessa identica cosa vale nelle uova perché appunto vi ho detto va nell'acqua si accumula nel fitoplanto nello zooplanto nelle alghe i pesci se lo mangiano poi gli uccelli acquatici mangiano questi pesci e sanno di nuovo allo stesso punto una cosa un po' da ricordare sono tutti i contenitori tutti i contenitori di plastica e purtroppo sta venendo fuori anche i PET vi ricordate che una volta c'era il PVC allora il PVC era quello veramente più tossico che cedeva specialmente in seri scaldato cedeva queste molecole in realtà adesso anche il non PET ma in certe occasioni anche il PET perché noi lo usiamo diffusamente e usiamo anche questi contenitori che si trovano in tutti i supermercati riscaldati dentro il forno al forno microonde tutto quello che volete il grosso problema sicuramente sono le mensa scolastica perché i nostri ragazzini piccoli in un'età in cui non dovrebbero essere a contatto con un eccesso di estrogeni vanno a scuola almeno 5 5 pasti 5 pranzi tutte le settimane non è il problema della festa di compleanno se i ragazzini vanno una volta al mese a una festa di compleanno e usano questi diavoli di piatti non succede assolutamente niente il problema è che loro vanno a scuola per 9 mesi e mangiano dei piatti di plastica sicuramente anche tutta la nostra cellofane tutta la plastica che noi usiamo per la conservazione di nuovo se io metto la mia alimentazione anche tutta tagliuzzata tenete conto che tagliuzzata è molto peggio che la verdura e la frutta intera perché ovviamente questa viene assorbita molto più facilmente se io vado a fare un picnic in montagna e ci metto quello dentro due ore ci metto il panino dentro due ore non succede niente il problema è quando tu invece usi questi prodotti 7 giorni alla settimana perché a casa è questa routine e in più li facciamo riscaldare il bispenolo ve lo sono ricordato se vi ricordate la discussione che c'era stata tanti anni fa perché veniva messo esattamente nei biberon quindi la plastica del biberon aveva in particolare questa molecola adesso non c'è quasi più ancora i farmaci sicuramente tutti i farmaci sia come componenti sia perché sono contenuti nella plastica e per migliorare le cose hanno inventato anche le pillole una volta c'erano le compresse almeno non c'era la parte plastica no adesso abbiamo le pillole che sono addizionate di queste molecole che si chiamano parabeni oppure sono addizionate dappertutto della vitamina A e della vitamina D sicuramente ci sono anche questi farmaci che sono quelli che vi abbiamo raccontato l'altra volta perché io invece li uso abbondantemente come fitoestrogeno a bassa dose la salve officinale è appunto il trifoglio rosso però sono farmaci che io so che io compro perché io voglio un eccesso di estrogeni e vengono prescritte delle persone che sanno che cosa stanno prendendo sicuramente non li dai ai bambini mentre tutto il resto ancora l'ultima classe saponi tutti i saponi saponi detergenti sia purtroppo anche quelli che vengono chiamati di nuovo biologici hanno di nuovo questi parabeni e ad esempio le gomme tutte queste gomme che usano i bambini tutte quelle molli una volta avevamo queste gomme dure le riconoscete le gomme che c'erano una volta non ce le mettevamo in bocca perché facevano veramente schifo adesso invece i nostri ragazzini hanno tutte queste gomme qua bellissime mollissime tutte così che loro si ficano in bocca peccato che sono pieni di queste molecole ho scoperto non lo sapevo neanch'io i dentifrici o comunque tutti i prodotti specialmente nei tubetti le creme e quant'altro dovrebbero avere questo bollino sono andata a controllare ed è vero allora questo bollino qua in base al colore ci dice in realtà la composizione del prodotto se è verde io nel supermercato non ho trovato nessuno verde dovrebbe essere completamente naturale blu vuol dire che è naturale e hanno avuto una medicina se è rosso è naturale più dei componenti addizionati chimici se è nero è completamente chimico quindi questo potrebbe essere un altro metodo perché poi spesso volentieri leggi i componenti non capisci assolutamente nulla però questo ci dice quindi quelli neri sono assolutamente chimici fine basta non vi racconto più niente perché altrimenti mi picchiate passiamo a raccontarvi quattro cose sulle patologie di cui vi ho detto essenzialmente la donna essenzialmente sul sistema riproduttivo ma l'uomo è quello più divertente poverino patologie sessuali allora vi ho detto che noi partiamo dalla forma ermafrodita ma specialmente poi nella pubertà dovrebbero comparire i caratteri sessuali secondari cosa ci ritroviamo nelle bambine essendo un eccesso di estrogeni tutto viene anticipato allora queste due righe qua dovrebbero essere quelle fisiologiche loro dovrebbero avere le mestruazioni a 10 addirittura 11 anni e dovrebbero avere questa crescita fra i 10 9 e mezzo fino a 15 anni invece adesso sta diventando sempre più frequente avere le bambine con le mestruazioni a 8 anni i bambini essendo la maggior parte estrogenici poi per carità c'è quella che noi chiamiamo pubertà precoce c'è questa anche nei ragazzini però sono quelli che probabilmente sono presi i più testosterone il 90% invece essendo estrogenici tutto diventa rallentato allora se i ragazzini sono già in ritardo avrebbero dovuto maturare dai 12 ai 17 anni invece loro maturano ai 13 quindi pubertà precoce per le donne quindi le bambine si ritrovano con le tette si ritrovano così piccole voglio dire si ritrovano con le mestruazioni hanno un sacco di problemi con il dolore con comunque l'identificazione della bambina e nuovamente io posso anche dire si va bene mi ritrovo con le tette se ho 5 anni e dice vabbè me ne farò una ragione e successivamente poi passare degli anni è un problema che mi passa sì ma se io comincio ad 8 anni a avere questo eccesso in realtà mi prendo tutta un'altra serie di problemi oltre all'identificazione mi prendo la sindrome premestruale cronica dolorosa mi viene l'acne mi viene la malattia fibrocistica mammaria sicuramente più precoce perché io comincio quasi 3 anni prima con un eccesso non quelle prodotte dalle mie ovaie ma con quelle sintetiche danno un arresto della crescita perché gli estrogeni vanno sulle ossa come noi li usiamo nella menopausa vanno sulle ossa ma in questo caso bloccano la crescita e quindi la maturazione delle ossa delle cartilagini ti vengono questi disturbi appunto perché i motivi cioè come noi poi durante l'amistrazione il periodo premestruale e postmestruale queste bambine si ritrovano molto precocemente ad avere tutti questi problemi già da adesso e poi successivamente continueranno la pubertà invece ritardata maschile allora ci troviamo questi bambini belli cicciotti senza peli assolutamente non hanno un carattere noi lo chiamiamo il tacchino spennacchiato flaccido scusate era per far ridere non ce l'abbiamo con gli uomini ma perché purtroppo abbiamo questi bambini tutti belli con le mammelle questo è ancora più bello che sembra veramente un orsetto e anche a loro ovviamente vengono problemi dell'identificazione specialmente se poi tu in classe hai dieci bambini così e uno così questo verrà preso in giro dall'inizio alla fine per sempre gli viene questa apnea oltretutto cistica molto difficile da curare perché è dovuta ad un'alterazione troppo precoce estrogenica che in realtà non dovrebbe essere sì i brufoli vengono a tutti questa invece è una vera patologia vengono agli ragazzini e quindi già da questa età un'alterazione dei danni a livello di maturazione e della produzione degli sprematozioni si arresta la crescita quindi rimangono piccoli hanno degli sbalzi emotivi che diventano come le donne in età mestruale quindi noi sicuramente abbiamo il ciclo mestruale va a farsi benedire a tutte le sue rimi cercadiani buonanotte ti viene appunto la dismenorrea quindi tutti questi problemi non solo a livello doloroso perché di nuovo vabbè c'è il dolore e ti puoi prendere anche una tachiperina ma in realtà aumenta il rischio di fibromi aumenta il rischio delle infezioni e poi delle complicanze di tutte queste infezioni di tutte queste malattie sicuramente la più frequente è l'ovaio policistico ormai noi nelle ragazzine di 20 anni abbiamo il 90% che come ci hanno l'ipotiroidismo ci hanno l'ovaio policistico sicuramente dovuto anche alla dieta all'eccesso di zuccheri ve l'abbiamo spiegato l'altra volta ripeto questi sono dettagli che messi tutti insieme peggiorano la situazione la fertilità più o meno ormai è il 40% a carico dell'uomo e il 40% a carico della donna proprio per queste alterazioni perché comunque la maturazione degli spermatozoi è alterata ormai ce n'è una ogni 8 copie una volta non era così frequente sicuramente l'infertilità c'è sempre stata ma è nettamente peggiorata disturbi sessuali infertilità maschile guardate cosa riescono a fare gli estrogeni sugli spermatozoi gli vengono due teste due code diventano handicappati perdono la bussola dormono cioè fanno delle cose un po' così poverini perché dicono ma sì ma a me questa roba qua non mi serve e quindi cosa devo fare adesso e quindi è diventata quasi il 26% proprio di più peggiorata come vi ho detto prima perché l'attività la capacità sia la motilità sia la capacità fertile dello spermatozoi è veramente molto fragile per cui tutte queste malattie allora tutte le infezioni ve le fate vedere l'inquinamento tutte le farmaci e tutte queste alterazioni ormonali vanno ancora di più a peggiorare l'infertilità maschile sicuramente la malattia fibrocistica non solo nella donna e il grosso problema è che ti viene sempre più pregiuncemente quindi si evolve molto più facilmente nel tumore ma anche nell'uomo quindi tutti questi estrogeni danno le tette all'uomo che si trasformano in un tumore del mammario del tessuto ghiandolare maschile l'identificazione sessuale purtroppo questi sono disaparecido non li troviamo più ma che in palestra ormai ci becchiamo questi bellissimi orsacchiotti e proprio dal punto di vista mentale nel senso che effettivamente non perché adesso c'è tutta di nuovo anche questa pubblicità per gli omosessuali ma sicuramente queste cose vanno a dare delle alterazioni sulla tua identità mentale visto che poi il cervello già tende ad essere femminile se tu ti mangi una tonnellata il testosterone saluti e baci e tu diventi appunto no gender neutro assessuato nessuno questa è una presa in giro ma proprio per porre l'attenzione sul fatto che non è solo una questione educativa è una questione che adesso se ne parla di più e ce ne sono di più no è proprio alterato da un punto di vista puramente metabolico sicuramente la libido viene alterata di nuovo in tutti e due i sensi questo è girato al contrario quindi l'uomo ha l'elieculazione precoce quindi fa molto più in fretta non ha il pletò non aspetta nessuno mentre prima era ritardato adesso è troppo precoce le donne manco col cavolo ci hanno 18 quintali di estrogeni e non ce la possono fare arrivano fino a lì poi saluti e baci fine ciao l'instabilità dell'umore è dovuta proprio a questi enormi picchi vi avevo raccontato l'altra volta che noi dovremmo arrivare a questo picco poi avere una stabilità e sicuramente poi non è la pausa invece noi già in queste fasi precoce abbiamo questa alterazione in tu 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 e noi facciamo veramente così diventiamo isteriche a tutti i livelli la depressione sicuramente la depressione ha maggior pannaggio delle donne perché è già per natura sempre legata a queste alterazioni degli estrogeni ma se io su questo ci metto ancora di più ovviamente tutto il resto anche gli uomini gli uomini dovrebbero avere dei livelli molto omogenei appunto aumenta poi lentamente diminuisce se io qui sopra ci metto tutto un bel rodeo come lo chiamavamo l'altra volta facciamo un bel pasticcio e nei periodi che già sicuramente noi abbiamo delle alterazioni quindi all'inizio nella pubertà durante la gravidanza e nella menopausa tutte queste cose sono peggiorate disturbi del sonno noi spesso volentieri non facciamo caso ma i disturbi del sonno già nei giovani possono essere anche dovuti a questi eccessi perché sia l'eccesso che la riduzione della quantità di estrogeni altera il sonno REM sapete cos'è il sonno REM? è una fase molto profonda in cui noi si chiama REM perché abbiamo questi movimenti oculari in cui noi veramente riusciamo a riposare a rilassarci e a spegnere il cervello purtroppo sia l'eccesso che la mancanza di estrogeni in particolare altera questo sonno REM e quindi la gente non dorme patologie non sessuali ci sono tutte queste qua e appunto parleremo probabilmente la prossima volta della resistenza insulinica e uno dei problemi è proprio lo sbilancio ormonale vi ho raccontato i pesticidi sicuramente le demenze dall'Alzheimer a tutta una serie di demenze le malattie cardiovascolari sia a livello cardiaco quindi l'infarto sia a livello cerebrale sia a livello dei vasi periferici e ancora a livello metabolico quindi vedete che qua c'è il sistema immunitario il sistema cerebrale il sistema riproduttivo questo sicuramente a livello metabolico del fegato del pancreas del diabete la cosa più eclatante che appunto sta venendo fuori di nuovo nell'uomo e nella donna è proprio questo esagerato sovrappeso tipico addominale dovuto all'attività estrogenica e quindi vengono queste bellissime cicciotte sia degli uomini che delle donne e guardate quello che volevo farvi vedere questa foto lo fa vedere molto bene vedete questo cicciotto qua cosa gli è successo con tutti questi estrogeni e con appunto la perdita della resistenza insulinica eccetera ha perso di nuovo tutti i caratteri sessuali maschili è diventato grass adesso qua non sono proprio in evidenza ha le tette ha perso la barba e tutto un bel coso questo signore non mi sembra tanto un bel macio tutt'altro tumori ormonodipendenti ve li ho già fatti vedere fino al 97% proprio perché non sappiamo dove vanno ad agire la correlazione ormai è diretta lo sappiamo benissimo che appunto un'esposizione a lungo termine aumenta il rischio a livello ma meglio per le donne a livello della prostata per gli uomini e qua poi sulla prostata ci possiamo sicuramente mettere tutto il resto ricordiamoci tumori non ormonodipendenti quindi non vale solo per gli ormonodipendenti purtroppo vi ho fatto vedere gli estrogeni sono un fattore di crescita anche per gli altri tumori cosa possiamo fare? difficile fare attenzione a quello che mangiamo e sicuramente ci deve essere una possibilità in qualche modo noi dobbiamo trovare il modo di cambiare di retrocedere questo sistema industriale che per una meccanica economica politica e quant'altro in realtà ci ha portato questa mi sembrava molto carina a diventare veramente dei prodotti solo vendibili cioè questo è proprio solo il commercio quello che si sta facendo è questa cosa che si chiama Deep Ecology cioè ci sono tutta una serie di studiosi che stanno cercando di portare avanti e stanno cercando di molto prima dei medici perché noi siamo un po' imbranati arriviamo sempre ben ultimi ma molto più all'origine cercare di capire che cosa si può fare a livello politico a livello economico proprio perché queste benedette istituzioni invece di pensare solo all'economia e quindi solo sempre al profitto ma pensino un po' di più a questo benedetto pianeta e quindi abbiamo la possibilità di tornare a questi veri percorsi biologici ma noi da soli non ce la possiamo fare sinceramente noi siamo qua in mezzo noi dovremmo essere gli esperti anche medici ma siamo un po' costretti fra questo e questo se il sistema economico politico istituzionale non vuole veramente cambiare noi siamo veramente un po' compressi da quello che è invece l'industria e appunto il tutto il sistema l'ingranaggio economico grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.